Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con AS15 di mamma Sony, AS15 come Ancona Savona 1.5 parliamo di un action camera, nello specifico appunto stiamo facendo un po' di prove per quanto concerne sia la S15 che per quanto riguarda la PJ come Palermo Jolly 650, la camera in questione action camera è poi facilmente agganciabile un po' dove volete, per esempio ha una visiera, un paio di occhiali per quanto riguarda la vostra attività sportiva e per quanto concerne la qualità stiamo registrando a 480p30, ovviamente l'immagine sarà condivisa as is, andremo quindi a prendere la nostra immagine straight out of the camera e ve la condivideremo, per quanto riguarda il filmato come al solito faremo qualche minuto, si cammina un po' si ciancia così da vedere anche la qualità, per esempio, di registrazione dell'audio, in questo caso registriamo in stereo. Per quanto riguarda la durata vedo che siamo quasi sui due minuti, pertanto cianceremo ancora un attimino, dopodiché tanti saluti. La camera in questione permette l'installazione di una micro SD, una batteria facilmente rimpiazzabile e il tutto appunto vi permette in questo caso un facile utilizzo nel momento in cui per esempio avete la necessità di riprendere la vostra attività sportiva, avendo le mani libere. La vostra attività sportiva potrebbe essere, che ne so, sci, snowboard, patinaggio, corsa, downhill, insomma dipende un pochino da cosa vi piace registrare, però in questo modo riuscite a catturare praticamente il vostro punto di vista. Per quanto riguarda quindi la camera in questione non credo ci sia altro da mostrarvi, noi ovviamente realizzeremo un video praticamente per qualità, dopodiché condivideremo i media prodotti appunto, come si diceva, straight out of the camera. Ora è tutto, grazie dell'attenzione, mi raccomando seguiteci su formobiles.info e i relativi canali social. Siamo sulle principali piattaforme, se ancora non ci seguite iscrivetevi in massa. Ora è tutto, un saluto, a presto da Giuseppe Ragazzino.